Durante controlli condotti nei comuni di Montebello Ionico, San Lorenzo e Bagaladi, i carabinieri della compagnia di Melito Portosalvo e i colleghi forestali del nucleoparco hanno denunciato in stato di libertà dieci proprietari di frantoi oleari per reati ambientali. Inoltre hanno effettuato sequestri in alcuni siti produttivi, in cui è stato accertato lo smaltimento illegale di rifiuti derivanti dalla lavorazione delle olive, la dispersione non autorizzata delle acque di vegetazione e la conduzione dell'attività di molitura senza la documentazione previsionale dell'impatto acustico redatta da un tecnico specializzato in acustica ambientale.